Una storia di guerra Senza esclusione di cui Dove sono i più forti e i più grandi I più coraggiosi Passeranno alla storia Molla Credi la biga Il fatto del mio cugino È un uomo buono Non batterti con lui Ti prego Non batterti con lui Ti prego E metti il piano E metti il piano E mi sembra la balleria del Bolshoi Danne pure a buttare le occhie Una grande storia d'amore Ci mi ha metto un po' di ghiaccia Ma mi sarò trucco un gelatore Tra vincitori ha vinto L'avei comprata a troni Non ci sono paragoni Invece le paragoni le sono fatte a comand Ogni l'ha comprata a un euro Non ha pagato niente E i funzionanti Poi gli do un segnale di avvertimento Cule li sono chiamati in piedi Annaccia santa No tu stucci stai amcazzata serie E me che ci ne abbiamo Ma io a me Ancora essi stupido Tartaruga Stucci non è qui Tartaruga Stucci non basta che ci aspettiamo Qua mi armasti già 30 marmittoni E allora tutti i troioni Cioè i troiesi, come cazzo si dice, moriranno. Troiani, comunque. C'è un'altra soluzione. Io amo Elena, perciò battiamoci noi due. Chi vince sarà il suo uomo. E che questa sia la fine. Ma ti sei pesato stamattina? Fai vendichile, anche tutta l'armatura. Ispirato all'Iliade di Omero, Troi, completamente rivisitato e corretto da Marco Papa. Prossimamente. Ma com'è? Iachille de qua, Iachille de là, stamattina è inciso soltanto per di Troiani. Agliace da solo, non è inciso e c'è. C'è che è in un film. E come l'ha inciso? Che l'aleta. E ti fai facendo pure lo fregno a dire che si è dirigibile. Invencibile, cavolo. Ah, perché Iachille. Chi ha Iachille? A me Iachille è andata per me di chiamarmi, ci capito? Grechi, arrestatelo. A tutti i grechi. Perché? Come si dice? Grechi, anche a me, grechi. Fermi! Ssssshh. Parlate piano. Giorna tosse, nemmeno freghi niente. Oh, facetemi scica, ma manca l'aria. Vuoi parlare piano? Ora ti hanno una coltellata in canna. Oh, ma manca l'aria. Ti so capito, però da parlare piano. E ma è stamattina che stiamo pure qua dentro, no? Una puzza di vita, mannaggia. Avanti, un bagoio, esce. Aria fresca. Già salita. Troi, in dialetto abruzzese. Info 389 072 7474.